Si è svolta a Silvi la terza tappa del convegno nazionale dal titolo Politiche per un nuovo mondo. Obiettivo dell'iniziativa è stata quella di fare il punto su analisi e previsioni sulle questioni economiche che riguardano l'Italia e l'Europa. L'evento è parte di un tour promosso dall'onorevole Alberto Bagnai, professore dell'Università Gabriele D'Annunzio, eletto in Abruzzo nel collegio, uninominali di Chieti e responsabile economia della Lega. Il mondo nuovo è quello che ci è stato lasciato in eredità dalla fase che abbiamo attraversato, la fase caratterizzata dalla crisi pandemica, dalla crisi energetica, dalla crisi bellica, una fase caratterizzata da fenomeni che ci eravamo dimenticati come l'inflazione a due cifre che pone delle sfide molto importanti sotto il profilo della gestione della politica monetaria e della stabilità dei mercati, come tutti stanno vedendo, ma anche e soprattutto sotto il profilo della distribuzione del reddito con l'erosione del potere d'acquisto dei salari. Vogliamo riflettere insieme su quali soluzioni la politica può dare a delle sfide di questo tipo. Durante il convegno si è parlato anche delle possibili soluzioni da mettere in campo per il rilancio economico. Secondo me occorre uno Stato che ricominci a fare lo Stato, che abbia il coraggio di riprendere un ruolo attivo di coordinamento della politica economica, ma anche in prima persona di attore di una serie di politiche delle quali tutto il Paese, ma in particolare la nostra regione, hanno bisogno. A partire dalle politiche infrastrutturali e anche dal perseguimento di alcuni obiettivi come un minimo, non voglio dire di totale autosufficienza, ma di maggiore indipendenza sotto il profilo, per esempio, delle politiche alimentari, per esempio delle politiche energetiche. Tra i relatori è anche il senatore Claudio Borghi, membro del Copasir. È un ciclo di incontri che stiamo facendo per tornare a parlare di politica, tornare a parlare di territori e collegare territori, quello che sta succedendo in giro per il mondo, anche in aspetto economico, che molti si preoccupano, ma le cose che preoccupano sono quelle non conosciute. Noi cerchiamo di spiegarle, anche partendo dalle banche, partendo da quello che sta succedendo. In questo momento storico, individuare le categorie da tutelare rappresenta la prima strategia utile per dare sostegno concreto alle famiglie. Una volta che si sa l'obiettivo, siamo a posto. In questo momento il problema grosso è l'inflazione. L'inflazione colpisce i lavoratori dipendenti e i pensionati. Una volta che si avrà conseguenza e chiarezza di questo, abbiamo già fatto un passo avanti.